complimenti sei riuscito ad aprire questa nuova zona qui troverai altre quattro piste buon divertimento questa è la schermata di caricamento salvataggio e 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 è Grazie a tutti. Ah, ecco ti! Ah, parcheggia! Peccato! Acqua! Ah, ecco ti! 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 Grazie per la visione! Puoi andare più veloce in curva con il derapage di potenza. Per accedere a questa funzione, premi e tieni premuto il tasto R1. Per entrare in questo box dei boss, devi arrivare prima... Grazie per la visione! 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 Complimenti! Hai vinto un trofeo! Per prendere una curva stretta o imboccare rapidamente un'altra direzione, usa il derapage in frenata, tenendo premuto... Grazie per la visione! 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 Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Papou stanco di vedere i lumaconi guidare piano. Papou correre veloce e stendere tutti i piloti. E provare a tutti ad essere grande pilota. Papou tanto veloce, non vedere piste. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.